8 turni senza sconfitta e l'ultima volta, l'unica in questo 2020, fu alla prima col Matelica per due reti ad uno. Da allora per i giallorossi sono arrivati 16 punti, stazionandosi al settimo posto in fatto di rendimento nel giro di ritorno, appena 5 punti dietro la coppia Campobasso-Matelica. E pensare che alla vigilia di settimana l'attaccante Macri, sui giornali, aveva dichiarato che lui e i suoi compagni con Cattolica non sarebbero rimasti a guardare l'avversario. Guardare no, ma ammirare sì. È proprio il caso di dirlo, perché Cattolica, Fiugi domina in largo e in lungo e non a caso Gasperoni apre da subito per Melonghi, il quale aspetta la sovrapposizione di notariali, cui traversone diventa insidioso per il portiere Cingari, che ci mette in questo caso del suo. Passano appena 10 minuti quando Falasca commette farlo a centrocampo, dalla conseguente punizione nasce il tracciato per l'incursione di Ferraro, che fredda Cingari per l'1-0 ospite. La risposta ai padoni di casa è affidata a questa concursione di D'Andrea, bloccato in due tempi da Guido. Macri da calcio piazzato scodella al centro per la corrente Falasca, timida e protesta in area avversa. Nella ripresa il Cattolica si rende vivo dalle parti di Cingari con questo tio di Battistini che termina alto. Dalla bandierina alla replica del Fiugi, Macri pennella per Basilico che di testa mette alto. Il Cattolica controlla i match e quando Osa fa male all'avversario Gasperoni si procura una punizione che lui stesso si incarica di battere, trovando i gol dello 0-2. Siamo al minuto 55. Il Fiugi esce dalla gara e le disattenzioni la fanno da padrona. Gualtieri qui in questo caso regala palla a Merlunghi, quale si invola verso l'area di rigore, servendo al centro l'assist del 3-0 a cura di Gasperoni. Doppietta per il numero 7, Cattolichino. La quarta firma è ancora per opera di Gasperoni. Il numero 7, Miloni in campo del Suoi, è incontenibile. Palla a servire Battistini che trova l'angolo vincente alla destra di Cingari. Nel finale il nervosismo prevale tra i padoni di casa che cercano prima la via dei gol con Scalon. Guido ci mette una pezza, poi Tassone nel tentativo di fermare l'avversario lo scalcia rimediando il cartellino rosso. Una vittoria che per il Cattolica vale doppio, considerando che ora la salvezza non dovrà più passare per i play-out, ma dato il cospicuo vantaggio sarà diretta. L'importante sarà continuare su questo rettilineo.